Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa semplicissima coperta estive per bambini ma che potete fare anche in versione bimbe utilizzando un bel rosa o un bel fucsia Io ho deciso di realizzarla in bimbi perché comunque la devo regalare e ho utilizzato due filati che sono il Miss Babysoft della Mistricot che è il numero 17 ed è questo celeste e il Miss Babysoft Color numero 102 che invece questo spero che si vede sfumato bianco e azzurro veramente molto molto carino e particolare e io ho deciso appunto di dargli quel tocco di vitalità in più utilizzando un celeste più scuro e a tinta unita ho utilizzato un totale di 150 grammi del Miss Babysoft che vi ricordo che è 100% cotone, soft, pettinato, gasato e mercerizzato e 50 grammi quindi un gomitolo solo del Miss Babysoft quindi un totale alla fine di 4 gomitoli 3 del Miss Babysoft Color, 1 del Miss Babysoft e sono riuscita a dar vita a una copertina larga circa 61-62 cm alta circa 74 cm ed è veramente bellissima, molto estiva, molto morbida, molto carina e ho utilizzato l'uncetto del 3,5 come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito incentando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori e io, visto che stiamo parlando di una copertina estiva per una bambina vi consiglio di poter alternare il rosa con il fucsia o il giallo con l'arancione quindi di dare quel tocco di brio e quel tocco di vitalità molto importante e per un bambino, se non volete optare per il solito celeste vi consiglio un bel bordeaux da abbinare a un, diciamo, un panna sì, sarebbe carino anche una cosa del genere o perché no, un bel blu notte alternato a invece un colore un po' più cari un po' più sfumato quindi veramente avete l'imbarazzo della scelta per fare questa copertina come vi dicevo è molto semplice da fare sono quattro giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questo motivo scozzese se vogliamo ancora chiamalo così che se ricorderete io ho in passato utilizzato due volte uno per il cardigan appunto chiama il scozzese e un altro per la maglietta iron woman quindi è una copertina che si realizza veramente in pochissimo tempo e io ho alternato in questa maniera ho fatto quattro motivi con i miss baby soft color e un motivo solo con il miss baby soft in modo appunto da poter dare vita alla copertina ma senza farla risultare poi troppo pacchiana se mi passate il termine quindi naturalmente io vi dirò nel video anche il multiplo delle catenelle in modo tale che se volete farla più più larga o più alta non avete alcuna difficoltà se la volete fare leggermente più alta io vi consiglio di andare a comprare almeno un altro gomitolo del miss baby soft color perché con questo non riuscireste a fare di nuovo quattro motivi con il miss baby soft perché vedete io ho terminato con il miss baby soft normale non con quello color stessa cosa se volete farla molto più larga e più lunga vi occorre un gomitolo in più di questo e due gomitolo in più di quest'altro una volta fatto l'intera copertina ho fatto un bordino molto molto semplice perché in realtà è tutte maglie basse intorno ai lati e nella parte inferiore mentre nella parte superiore sono andato a fare questi ventaglietti in modo che sembrano dei piccoli pacchi regalo qui in alto qualcosa sempre di carino e sfizioso ma non ho fatto il bordino intorno a tutta la copertina perché mi è stato richiesto soltanto di farlo in alto e lasciarla semplice agli altri bordi però voi potete fare lo stesso bordino con le onde intorno a tutta la copertina detto ciò spero che anche questa creazione semplicissima vi piaccia che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando come sempre mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook uncinettando con Elsa o sul gruppo facebook la libertà di uncinettare e sferuzzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come uncinettando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare la copertina che come vedete io ho già lavorato adesso vi farò vedere il campioncino per realizzare questo motivo che è semplicissimo ed è un motivo a scacchiera se così vogliamo dire allora io ho utilizzato due filati che sono il Miss Baby Soft Color e Miss Baby Soft il Miss Baby Soft Color è il numero 102 mentre Miss Baby Soft è quello numero 17 quindi due colori che sono veramente molto carini insieme allora io per la mia copertina ho montato un totale di 119 catenelle e la copertina mi è venuta lunga, larga, circa 61 cm lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e nel campione io invece ho montato 31 catenelle la lavorazione che si va a fare si ottiene sul multiplo di 8 a cui poi dovete aggiungere 7 catenelle finali per avere l'inizio uguale alla fine quindi ripeto, nella copertina vera e propria è montato 119 catenelle mentre nel motivo ne ho montati 31 e vi faccio vedere quindi come andare a realizzare questo semplicissimo motivo e andiamo a fare 3 catenelle che sono, cioè scusatemi, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo, salto la prima delle 31 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta ho così 2 maglie alte devo arrivare un totale di 7 entrando sempre una volta in ogni catenella quindi 2 catenella successiva 3 catenella successiva 4 catenella successiva 5 catenella successiva 6 catenella successiva 7 una catenella di separazione ricomincio da capo salto una catenella entro nella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta ne devo fare un totale di 7 quindi una l'abbiamo già fatta andiamo nella catenella successiva 2 3 4 5 6 7 catenella di separazione e di nuovo salto una catenella vado a fare i miei 7 magliate 1 2 3 4 5 6 e 7 questa catenella di separazione salto una catenella ricomincio da capo questo è quello che si deve fare per tutto il primo giro si termina il primo giro facendo salto una catenella e vado a fare le mie ultime sette maglie alte quindi una 2 3 4 5 6 6 e 7 abbiamo terminato così il nostro primo giro giriamo la lavorazione andiamo a fare il nostro secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta sopra la maglia alta successiva per un totale quindi di tre maglie alte catenella di separazione salto una catenella e una maglia alta vado alla successiva e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle ultime tre maglie alte quindi una due tre catenella di separazione si ricomincia da capo quindi una maglia alta sulle prime tre maglie alte una due tre catenella di separazione salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle ultime tre maglie alte una due tre catenella di separazione ricomincio da capo quindi tre maglie alte una sopra ogni maglia alta una due tre catenella di separazione salto una maglia alta e di no tre maglie alte una due e tre catenella di separazione di separazione si fa questo per tutto il secondo giro si termina il secondo giro andando a fare sempre una maglia alta sopra le prime tre maglie alte una due tre catenella di separazione si salta una maglia e di no le ultime tre maglie alte una due tre ho terminato così anche il secondo giro terzo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi due tre una maglia alta nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta sopra ogni una delle tre maglie alte una due tre ho realizzato di nuovo quindi sette maglie alte catenella di separazione salto la catenella e ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte una successiva 2 successiva 3 una maglia alta nell'archetto di una catenella e quindi sono a quota 4 maglie alte e vado a fare le mie ultime tre maglie alte quindi una 2 3 catenella di separazione salto la catenella e ricomincio da capo e vado a fare le mie sette maglie alte quindi una una tre la quarta nell'archetto di una catenella 5 6 e 7 catenella di separazione si fa questo per tutto il terzo giro si termina il terzo giro andando a fare di di nuovo sette maglie alte una due tre la quarta nell'archetto 5 6 e 7 entrando nella terza catenella iniziale ho terminato così quindi anche in il mio terzo giro quarto e ultimo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una due tre catenella di separazione salto una maglia alta entro nella successiva e vado a fare una maglia alta catenella di separazione di nuovo catenella di separazione salto una maglia alta entro nella successiva e vado a fare una maglia alta catenella di separazione di nuovo salto una maglia entro nell'ultima delle mie sette maglie alte e vado a fare una maglia alta catenella di separazione catenella di separazione e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta catenella di separazione catenella di separazione salto una maglia alta entro la successiva e vado a fare una maglia alta punto nell'ultima delle mie sette maglie alte vado a fare una maglia alta catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra la prima maglia alta catenella di separazione salto una maglia entro la successiva e realizza una maglia alta catenella di separazione salto una maglia e nella successiva e realizza una maglia alta catenella di separazione salto maglia entro la successiva e realizzo una maglia alta catenella di separazione devo fare questo per tutto il quarto giro termina il quarto giro andando a fare sempre una maglia alta sopra la prima maglia alta catenella di separazione salto una maglia entro successive realizzo una maglia alta catenella di separazione salto una maglia entro successive realizzo una maglia alta catenella di separazione entro nella terza catenella e vado a fare una mia ultima maglia alta questi sono i quattro giri che dobbiamo sempre andare a ripetere vi faccio rivedere un attimo primo giro visto che non abbiamo una base diversa e di rifacciamo dobbiamo sempre fare le 3 catenelle che sono sa prima mai alta e adesso devo fare un totale di 7 magliette una l'abbiamo fatta la seconda abbiamo andare a fare nell'archetto la terza sopra la maglia alta la quarta nell'archetto la quinta nella maglia alta la sesta nell'archetto la settima nella maglia alta catenella di separazione e si va direttamente dove abbiamo la maglia alta e di nuovo andiamo a fare nostre 7 magliette quindi una due nell'archetto 3 nella maglia alta 4 nell'archetto 5 nella maglia alta 6 nell'archetto 7 nella maglia alta catenella di separazione si ricomincia da capo quindi come vi ho detto quattro sono i giri che andiamo sempre a ripetere e adesso vi spiego quando sono andata a utilizzare il celeste per fare in modo che la copertina venisse più movimentata allora io ho ripetuto in questa maniera il cambio colore ho fatto quattro motivi con il baby miss baby soft color e un motivo facendo soltanto il secco il primo secondo il terzo giro con invece il numero 17 quindi il miss baby soft e poi di nuovo 4g motivi con il miss baby soft color un motivo con il miss baby soft quattro motivi con il miss baby soft color e sono andata a terminare la copertina con un giro di miss baby soft in totale la copertina mi è venuta alta alta circa 74 centimetri e poi ho fatto un bordo il bordo veramente semplicissimo perché lateralmente e sotto ho fatto solo un bordino di maglie basse quindi entrando sempre una maglia bassa dove ho la maglia alta una maglia bassa dove ho l'incrocio tra le due maglie alte mentre per quanto riguarda il bordino vi faccio vedere bene eccoci eccomi qua ho fatto soltanto in questa maniera dove ho la prima maglia alto fatto una maglia bassa nella quarta sono andata a fare sette maglie alte e nell'ultimo ho fatto una maglia bassa una maglia bassa nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia bassa sopra la prima maglia alta sette maglie alte all'interno della quarta maglia alta una maglia bassa dove ho l'ultima maglia alta una maglia bassa nell'archetto quindi una cosa veramente molto semplice mi piaceva l'idea che sembra che sembrassero di piccoli pacchi questi qua in alto questi a piccoli quadrati in alto però il bordino l'ho fatto sono in alto perché questa copertina la devo regalare e mi è stato chiesto di non fare il bordino ma soltanto qualcosa per distinguere il basso dall'alto e quindi ho preferito fare un semplice ventaglio lavante in alto e semplice maglie bassa tutto attorno alla copertina naturalmente voi potete fare il bordino che più vi aggrada io direi che anche quello l'acqua nelle ondine sarebbe veramente un bordino molto carino oppure potete fare qualcosa con un po con dei tre o quattro giri di particolare che dà comunque l'effetto un po di onde perché comunque questi colori ricordano molti colori del mare detto ciò quindi la mia copertina è terminata